Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, scusate la bardatura, scusate la voce, ma io riesco ad ammalarmi anche stando in casa, ebbene sì, perché vuoi avere le gioie nella vita? Ovviamente no. No, siamo tornati in camera perché Joe è in sala e sta lavorando, quindi insomma non mi sembrava carino disturbarlo e parlargli alle spalle mentre cerca di stare concentrato. Naturalmente non mancano con noi elementi potteriani, perché vuoi non avere le lenzuola di corvo nero, dico io, cioè vuoi non averle, è ovvio che le hai, quindi insomma Harry Potter è sempre con noi, è sempre con noi in particolare perché oggi, in realtà, io volevo fare un altro video, però date le condizioni. Sì, ma quel che si può. Oggi parliamo un po' così, molto come viene, tirerò anche su col naso, ma voi fate finta di niente, chi se ne frega, oggi parliamo di come siamo combinati con le reading challenge e cosa, quali challenge ho intenzione di fare nei prossimi giorni, visto che tanto non si esce. Cioè, io generalmente sto in casa a prescindere, no? Cioè per me non è un problema stare in casa, però mi sto rompendo le palle persino io, quindi insomma, nonostante sappia come impiegare il tempo e tutto, no? Quando vedi quella giornata di soli, dici però cavolo hai un frappettino, andrei anche a farmelo volentieri e invece no. Comunque, allora, vabbè, partiamo dalla challenge del gruppo Facebook solito nostro, bla bla bla. E a tema Harry Potter, ovviamente, cioè poteva non essere a tema Harry Potter, no? Certo che no. Quindi, niente, l'ho praticamente quasi finita. In realtà, adesso vi faccio vedere, non so se capisce qualcosa, comunque, è fatto in questa maniera. Allora, qui c'è una categoria fondamentalmente di libri per ogni anno scolastico, ce n'è una, quella di partenza, quella dello smistamento, poi ci sono delle cose extra, ognuna legata ad un anno in particolare. Quindi, abbiamo, appunto, lo smistamento, poi c'è la pietra filosofale e poi il quidditch, la camera dei segreti, il serpentese, il prigioniero di Azkaban, il patronus, il calice di fuoco, il torneo tre maghi, l'ordine della fenice, il gufo, il principe mezzosangue, il mago, i doni della morte e la coppa delle case. Ci sono alcune categorie che, in realtà, sì, ciao voce, è stato bello averti, che in realtà richiedono tre libri, letti a domino, quindi, partendo da uno con una richiesta in particolare, si scelgono le lettere successive collegandosi al primo. In qualche maniera può essere il formato, l'autore, il genere, il tipo di protagonisti, qualunque cosa, nel senso, non è che ci sono cose particolarmente restrittive, anzi. Ho cercato di rimanere sempre a marica larga, per così dire, perché, appunto, è un gioco, ci si deve divertire, non è che stiamo lì per chiedere proprio il punto preciso sulla I. Invece un po' di voce la richiederei, ma comunque. Niente, allora, io sono arrivata, praticamente, ho finito i gufo e devo iniziare il principe mezzosangue, che nel caso specifico richiede un libro facente parte di una serie o un autore che si segue da tempo. Quindi, vedete che, cioè, metto sempre nel caso una doppia possibilità, cioè, se uno non legge saga, è chiaro che non è che possiamo obbligarlo a incominciarle. Quindi, insomma, io per questo punto, nello specifico, prossimamente comincerò il secondo della serie Explorer Academy, che è la prima del Falco di Detroit, della National Geographic, perché sì, perché mi serve anche per altre challenge, che adesso poi andremo a vedere. Praticamente, niente, dopo questo qui avrò da leggere tre libri per i mago, poi me ne mancheranno altri due, sarà finita. E il fatto che questa challenge dura fino a dicembre, il fatto di averla già finita, già quasi adesso, insomma, fa capire che non è una cosa molto impegnativa, molto complicata, ecco. Poi, challenge non create da me, c'è la Magical Readathon di G, di Book Roast, che è quella dei gufo. Che, tecnicamente, inizierebbe il primo aprile e durerebbe fino al 30 aprile, però, erbadisco, siamo qui a guardarci in faccia. Leggere si legge lo stesso, tanto ne vale leggere con qualcosa di specifico da seguire, no? Perché io mi diverto tantissimo a fare le challenge, mi dà più stimolo nella lettura. So che tanti le trovano restrittive, dicono che la lettura non è un lavoro, per carità, siamo assolutamente d'accordo, però io personalmente trovo le challenge come delle spinte a leggere cose diverse o cose che magari stanno lì da tempo e quindi, insomma, mi dà più divertimento. Mi piace, le faccio e chi se ne frega. Quindi, insomma, la challenge dei gufo. In realtà, come funziona? Ci sono 12 categorie, una per ogni materia. Poi c'è un compendio di carriere magiche, in cui si specifica quali tipi di esami, tra virgolette, bisogna passare, quindi quali materie, perciò quali libri leggere, quale challenge portare a termine per fare quella determinata carriera. si svolge in due tempi, cioè ci sono i gufo e poi ci saranno i mago. Quest'anno, oltre alle carriere, ci sono anche tipo dei seminari, quindi delle cose extra. Insomma, io vi lascio poi tutti i link necessari, utili e fondamentali. Io non so spiegarmi normalmente, figuriamoci adesso. Comunque, io ho qui il mio quaderno di appunti, l'ennesimo, che non so io ogni video che trovo... Cioè, tiro fuori un quaderno di appunti è sempre diverso, ma va bene. Praticamente, io ho scelto in particolare quattro lavori, quattro carriere, più un seminario. Però, in realtà, ho deciso che leggerò quello che mi va e in base a quello che leggo, poi metto dentro e va bene così. Cioè, quello che si riesce a fare, si fa e va bene. Perché, appunto, sono indecisa, quindi non so neanche precisamente a cosa puntare. Non so se riuscirò a leggere tutti e dodici i punti, perché determinate cose sono un po' fuori da quello che io ho effettivamente in casa da leggere. Quindi, insomma, ci si arrangia come si può. Nello specifico, le quattro carriere che io avrei scelto sono il graphic designer, il bibliotecario, il tezio che vende tomi magici, li fa girare per il mondo, eccetera, è professore di Hogwarts. E, in più, ho scelto il seminario Macchinista, perché mio papà è un macchinista, quindi ho detto no, voglio farlo anch'io, almeno nell'Haworth Express, poi nella vita reale non è andata molto bene. Però, insomma, almeno in cose di ambito letterario fatevelo fare, grazie. Dunque, praticamente, cosa richiede il graphic designer? Il graphic designer richiede, richiedere, sì, va bene, ciao a me, ciao, richiede quattro esami e sono gli stessi di quelli del Trader of Magical Tomes, quindi lo stesso di quello che va in giro a far girare volumi magici. Sono anticherune, incantesimi, storia della magia e trasfigurazione. Il bibliotecario richiede anticherune, aritmazia, aritmanzia, difesa contro le arti oscure, storia della magia e trasfigurazione. Quindi, come vedete, più o meno sono rimaste sempre negli stessi ambiti, in modo da non dover correre tra una materia e l'altra. E poi, il professore di Hogwarts richiede, in particolare, difesa contro le arti oscure, poi la materia che uno vuole insegnare e altre ciclo materie a scelta. Quindi, una roba molto tranquilla e serena. Mentre il macchinista richiede difesa contro le arti oscure e babanologia. Le 12 materie con le 12 categorie sono esattamente queste. Anticherune, cioè un libro che abbia un cuore nel titolo o un cuore sulla cover. Aritmanzia, un libro che sia fuori dal genere a preferito, quindi nel mio caso qualcosa che non sia un fantasy. Astronomia, un libro da leggere di notte o comunque durante le ore di buio, quindi non adesso che c'è il finto sole. Babanologia, un libro di narrativa o un contemporaneo. Cura delle creature magiche, un libro che abbia in copertina una creatura con il becco. Difesa contro le arti oscure, un libro ambientato al mare. Divinazione, un libro scelto con un generatore random di numeri. Rebologia, un libro in cui titolo inizi con la M. Incantesimi, un libro con la copertina bianca. Pozione, un libro sotto le 150 pagine. Storia della magia, un libro con maghi o streghe. E trasfigurazione, un libro con dei muta forma. Ogni libro può rispondere a una sola categoria ed è una cosa che mi manda in bestia, perché in questo caso specifico, diciamo, c'era un libro in particolare che mi tornava utile per tre e sarebbe stato bello poterlo fare così, però insomma, chi se ne frega. Ho in realtà vari altri libri che ricoprono più punti ed è per questo che ho deciso di leggere quello che mi va e poi assegnare quello che capita, insomma, in base a quello che mi serve. Ho già letto due libri per questa challenge. Il primo è La conferenza delle Yimbrin di Ransom Riggs, che è il quinto volume della Casa dei Bambini Speciali di Miss Peregrine o i ragazzi speciali, come poi l'hanno ritradotto. Questo appunto risponde in particolare a due categorie, ovvero la creatura con il becco in copertina, qui c'è un corvo, e poi il libro con dei muta forma, perché infatti ci sono le Yimbrin, che sono donne che hanno la capacità di trasformarsi in uccelli. Quindi già risponderebbe a due punti, quindi quando poi sarà il caso, vedrò in quale piazzarlo. Poi ho letto Il Custode delle Tempeste di Catherine Doyle. Questo in realtà risponde semplicemente al libro ambientato al mare, perché mi tornerebbe comodo così, dato che non ne ho molti altri ambientati al mare. Però in realtà potrebbe rispondere anche a quelli con maghi e streghe, perché ci sono un mago e una strega, anche se non sono esattamente dei personaggi principali, però ci sono. C'è della magia nell'aria, quindi insomma eventualmente potrebbe tornarmi utile anche per quello, in base sempre lì a come riesco a fare poi. Mentre sicuramente questo è il libro da leggere di notte, infatti me lo sto leggendo apposta durante, cioè alla sera, durante la sera, l'italiano l'abbiamo abbandonato insieme alla mia voce in fondo al tunnel. Centro buon umore di Gaetano Neri, sono dei racconti molto veloci, infatti il più lungo aveva tipo sei pagine, ce n'è tante da uno a due, tre pagine, quindi insomma è una cosa che si legge velocemente, poi ha tipo una 150 pagine. E appunto lo sto leggendo prima di dormire fondamentalmente, ne leggo qualche pagina anche a giù, così ci, come dire, ci godiamo questa lettura insieme e soprattutto mi sostiene nell'essere d'accordo sul fatto che questi racconti non hanno senso, ma va bene. Lo vedremo poi nelle letture del mese, non ho voglia di farvi già spoiler adesso. Ciao mondo. Mentre invece l'ultima challenge, dopodiché io veramente devo chiudere perché non ce la sto facendo più, l'ultima challenge, il corso che ho anticipato, anche questa, anzi stra-anticipato perché in teoria avrebbe luogo a maggio, quindi voi capite bene che farla a marzo è ben più che anticipare, è proprio un facciamola quando capita, che va bene così. E' una cosa molto simpatica, creata da... Oddio, come si chiama? Auto Train Your Gavin. Questo ho dovuto stampare dei fogli per forza di cose perché sì, cioè, perché sì. C'è praticamente una mappa. Bisogna partire dal primo punto che è il Purcher's Pocket Inn per arrivare a The Bookkeeper Struggle e bisogna passare, insomma, per altre tappe. Se ne possono scegliere... No, se ne devono scegliere tre, ma si possono scegliere tra varie opzioni come se fosse una sorta di libro game, gioco di ruolo o qualcosa del genere. in realtà c'è la storia, ma io mi sono ben guardato da leggerla perché... perché sì. Perché non avevo voglia, sinceramente. Volevo vedere quali erano le categorie, trovare il mio percorso. Tante saluti a vederci, grazie. proprio molto stringi-stringi. Tant'è che poi mi sono fatta anche qui la mappa con tutti i vari cosi, dove portano, cosa puoi fare, cosa non puoi fare, cosa devo leggere. Qua per forza mi sono dovuta scegliere i libri da leggere, ma in realtà... non è che siano più definitive come scelte. Praticamente ogni punto della mappa, ogni luogo della mappa, ha due o tre opzioni dove si può andare per la volta dopo. Bisogna leggere cinque libri, ma al punto uno c'è già un tizio che ti dà la possibilità di esprimere un desiderio. e la scelta dei desideri è saltare un luogo, quindi fondamentalmente leggere quattro libri anziché cinque, trasportarsi in un punto differente della mappa, cioè se arrivi in una stazione, diciamo, e i tre punti successivi non ti sono d'aiuto, puoi spostarti in un altro luogo, fondamentalmente. Io ho scelto questo perché poi vi dico. E il terzo coso è che ti trasporta direttamente alla fine, e questo sinceramente non mi è molto chiaro, perché voglio dire, se devo leggere cinque libri, che senso ha che io vada direttamente alla fine? Non lo so. Cioè, non ho ben capito questa cosa, ma chi se ne frega. Come vedete, io ho prodotto in maniera molto blanda della serie. Sì, facciamo le challenge, ma così come viene, ecco. Perché ribadisco, è un gioco, mi diverte, basta, non è che lo faccio così per lavoro, ecco. Allora, io, la mia... Allora, le opzioni erano queste. Ecco, lo leggo da qui, che faccio anche prima. C'è il punto di partenza, che è il Posture's Pocket Inn, per il quale bisogna leggere il primo libro di una serie. Questo ti dà la possibilità di andare in tre luoghi. Yellow Brick Road, libro da leggere, cioè libro che da tempo rimandi, fondamentalmente, Baba Yaga's House, quindi un libro in cui c'è una relazione familiare, e The Wonderfalls, un libro con delle disabilità. Cioè, in cui c'è una rappresentazione di disabilità. Poi, il Yellow Brick Road fa andare o al Bosco dei Cento Acri o al Deep Woods, che sono, nello specifico, il Bosco dei Cento Acri è un libro con del Johnny in copertina, da Deep Woods, un libro pubblicato prima del 2000. Poi, la Baba Yaga's House fa andare al Bosco dei Cento Acri, da Deep Woods, e la Laguna delle Sirene, che è il libro con un legame tra donne, tra personaggi femminili, e invece Wonderfalls fa andare al Deep Woods e alla Laguna delle Sirene. Non so perché mi stanno vedendo fate, cosa c'entra, niente. Allora, io ho scelto, in questo caso, di andare prima alla Baba Yaga's House e leggere un libro con una relazione familiare e poi al Bosco dei Cento Acri, che è un libro con una copertina gialla. Qui entra poi in ballo il mio desiderio, cioè il desiderio che io ho scelto. Perché? Perché il Bosco dei Cento Acri fa andare al Broly Rail o all'Orion Found. Il Broly Rail è un libro con un mezzo di trasporto in copertina o nella storia, cioè incentrato su un mezzo di trasporto, oppure... Mi sta venendo un dubbio, però va bene, non fa niente. Oppure... L'Orion Found, cioè un sci-fi o un libro sullo spazio. Ora, io non leggo fantascienza, non leggo libri sullo spazio e non ho libri con mezzi di trasporto che mi vadano di leggere in questo momento. E il dubbio che era era che forse non era solo il mezzo di trasporto, ma anche con il teletrasporto, ma in ogni caso non ho niente di tutto ciò. Quindi, cosa ho fatto? Ho usato il mio desiderio per spostarmi in un'altra località, che è la terza di queste tre scelte, che è il Black Ice Bridge, a cui si può arrivare dalla Laguna delle Sirene o dalla Deep Foods. Lo so che non si sta capendo niente di quello che sto dicendo, ma voi fate finta di sì, tanto io vi lascio tutto nell'info box, quindi poi potete guardarlo con calma. E il Black Ice Bridge richiede un libro con una spedizione o un'avventura. Quindi, leggendo fantasy, è tutto pieno di avventure, perciò mi trova molto più utile, no? E poi da qua si passa al Bookkeeper Stronghold, che è il seguito di una serie, che non è un problema, perché appunto ho in ballo talmente tante serie, e poi comunque voglio dire, sono in ballo con Percy Jackson, ha voglia, quanti seguiti ho da leggere. Allora, come primo punto, anche qui ho letto Il Cusato delle Tempeste, perché è il primo di una serie. Come secondo punto, leggerò appunto, leggerò La Piuma del Falco, perché c'è un legame di relazione familiare, infatti c'è il ragazzino che cerca delle cose lasciate dalla madre, con l'aiuto del padre e della zia. Quindi, insomma, la relazione familiare non manca, c'è tutta la famiglia in pratica. Poi mi sposterò al Bosco dei Cento Acri, andando a leggere Il Sangue dell'Olimpo, che io ho lasciato di là. E lo so, il giallo in copertino in quel caso è dato semplicemente dal simbolo della casa editrice, però quello avevo e quello ho messo. Invece, come spedizione avventura e poi il seguito di una serie ho messo semplicemente The King Chronicles 1 e 2, perché sì, perché sì. In realtà poi non so bene come andrà a finire questa challenge, non so neanche se riuscirò mai a arrivare alla fine di questa challenge, però va bene così. Niente, fatemi sapere voi come state passando il tempo, spero in maniera molto più migliore della mia, anche se più migliore non si dice. Devo suffiarmi il naso, scusate un attimo. Eccola di ritorno. Cioè, un record, 20 minuti senza suffiarmi il naso è un record in questi giorni. Mecca non è che più cosa stavo dicendo, ma va benissimo. E niente, scusate se è un po' monocorde questo tono, ma come potete constatare non è che sia messa molto bene. Comunque, niente, fatevi sapere voi cosa state leggendo, se state partecipando a delle challenge, come sta proseguendo la vostra quarantena. Ci vediamo nel prossimo video che in teoria dovrebbe essere con Joe e in pratica spero che sia anche un po' più vivo di questo perché lui ha più voce di me e quindi, insomma, potrà sicuramente impegnarsi un po' di più nella cosa. In tutto ciò io vi rimando alla prossima e ciao a tutti!